Sì, lo faccio ancora da cocainomane perché ci è piaciuto l'altra volta l'attacco se non dicono che siamo moshi, benvenuti a questa trentesima puntata di si stava meglio quando si stava a metal e abbiamo nuovamente un ospite, un ospite di grandissimo livello, no vabbè tanto sappiamo chi siamo ormai, tua tia ci ascolta, va tutto bene insomma, vabbè io sono Dennis, Benzo, Stefano Viking, vabbè siamo sempre noi e abbiamo un ospite, allora stavolta abbiamo puntato in alto e direttamente dal Sunset Boulevard abbiamo contattato Giovanni Loria che è una firma storica del giornalismo italiano, uno che ce la sa, ciao Giovanni presentati per i giovani che magari ti conoscono meno, insomma io direi che in questo momento metà, over 50 della scena heavy metal italiana sono già andati in sollucchero e potresti anche scorreggiare nel microfono che allora va bene uguale, ma è male che effettivamente mi scappava giusto qualcosa, ma in realtà vi devo contraddire subito, partiamo subito col piede giusto perché prima di tutto non sono una firma storica visto che sono solo una quindicina di anni che scrivo e per essere firme storiche bisognava esserci negli anni 80 o perlomeno negli anni 90 e poi il giornalismo non mi riguarda perché io come praticamente quasi tutte le persone che scrivono, che imbrattano carta, in questo ambito non sono un giornalista sono solo un appassionato, un soldato del rock and roll come ama dire anche il mio amico Gianni della Cioppa e niente, mi autocratifico così, poi se qualcuno mi legge mi fa piacere però non voglio avere responsabilità insomma. Tu hai scritto per quanti anni dove? Ho scritto 12 anni su Classics, 12 anni su Classics Metal, circa 3 anni su Classic Rock e adesso è da un anno abbondante che scrivo su Prog e mi fa piacere dare una mano ai ragazzi di Holy Legions, sono un po' come il tastierista che suona sul disco senza far parte della band, la special guest diciamo, impegno principale. Ok, allora, dunque, giornalista o pubblicista o brattacatta, insomma la qualità di come scrivi tu quella la conoscono tutti, storico o no? Allora se uno deve essere storico perché sono dagli anni 80 che scrive, allora anche la San Benettese non era mai una squadra storica, perché insomma che sono 30 anni che fa cagare non è, insomma la qualità secondo me va un po' al di là di questo, però in ogni caso tu vieni dal mondo della carta stampata e la carta stampata di recente ha avuto i suoi bei tracolli, non do un giudizio qualitativo, però è statistica che ormai di giornali di metal in edicola ce n'è rimasto uno, che è il quattro ruote della situazione, c'è quello più generalista di tutti, che ero card, perché anche Classics e Classics Metal l'hanno abbandonato, l'edicole è ufficiale. Tu che c'eri prima, sei stato in mezzo e ci sei adesso, a cosa imputi questo cambiamento? Cioè al di là della qualità e di uno sia d'accordo o no, perché ci muoviamo verso questi lidi? È il mondo che è cambiato, non è tanto un problema legato alle riviste metal, rock, è il mondo che è cambiato, è un mondo nel quale la maggior parte delle persone, delle giovani generazioni, ma non solo loro, ritengono che tutto si possa scoprire su internet. Non c'è più l'abitudine, non c'è più l'abito mentale di andare in edicola a comprare già un quotidiano, cioè il Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero, La Gazzetta vendono la metà di quello che potevano vendere vent'anni fa, e naturalmente stiamo parlando di colossi, di giganti. Una rivista che parla di musica, che già interessa relativamente a un numero basso di persone, che parla di musica rock, che parla di un settore ancora più settoriale, scusate la ripetizione, che è quello dell'heavy metal, ma quanta gente può leggerlo? Secondo me un pubblico ci sarebbe, ma molti ritengono che su internet possano trovare tutte le informazioni, e ormai sono rimasti soltanto persone di una certa età, 40, 50, 60 anni, che sono abituati ad andare in edicola, che sono abituati al cartaceo, tranne ovviamente le eccezioni che ci possono essere. Quindi non è tanto un problema di calo qualitativo. È proprio un mondo che è completamente cambiato. Io compro fumetti. I fumetti una volta erano un prodotto per ragazzini, per adolescenti, per teenagers. Adesso i fumetti continuano a leggere le persone dell'età mia, io ho superato i 50 anni, ripeto, anche qui con le dovute eccezioni. Mi facevano a strisce i fumetti perché devono essere nascosti in mezzo ai libri, no? I libri di scuola, per evitare che i professori li potessero scoprire. Adesso questo è un problema che non si crea più perché magari sono i professori quelli che si leggono. Quindi è tutto un mondo che è completamente cambiato, la fruibilità che è cambiata, tutto è su internet, si ha l'illusione, perché è un'illusione, non è una realtà, di credere che la propria conoscenza si possa costruire tramite la rete e questo produce tanta ignoranza, tanta superficialità, tanta presunzione e questo poi spiega perché di rivista ne è rimasta soltanto una. E quella che è rimasta? Io per esempio, al di là che non ce l'ho con nessuno, ROCAD, non lo leggerei mai perché semplicemente è una rivista generalista, è come quattro ruote. Io la conosco poco, non ne ho mai comprato un numero, diciamo che ROCAD ha il suo perché e fondamentalmente segue quella che è la quotidianità, diciamo, nell'epimetal e nell'hard rock, quindi recensioni, interviste, recensioni, interviste, è uscito l'ultimo disco dei, non lo so, dei The Flappard piuttosto che dei Mayhem e allora li intervistiamo, recensiamo il disco io personalmente, ma questo è un mio giudizio personale, va preso per quello che è, amo di più quando si va a scavare nella storia ed è il motivo per cui mi sono trovato bene in altre riviste per le quali ho avuto il piacere di collaborare e mi trovo bene su PROCAD, è chiaro che non si può snobbare la condizione. Che secondo me sono anche le uniche che hanno, quelle tematiche sono le uniche che hanno senso di esistere. Sì, per me può avere senso anche di esistere una rivista come ROCAD che ti racconta quella che è la contemporaneità, esce il disco The Running Wild e per chi vuole avere la recensione del disco The Running Wild, anche se poi se lo può sentire da solo scaricandoselo, va bene, va bene anche quella, diciamo che manca l'altra fascia della medaglia, quella che vado un po' a scavare nella storia, anche perché la storia va esaminata, è bello raccontarla in diretta, ma quando la racconti in diretta non ti rendi conto che poi diventerà storia e non sarà semplicemente cronaca. A distanza di circa 40 anni dalla nascita dell'esplosione, più che dalla nascita del fenomeno heavy metal, era arrivato il momento, a distanza di 30 anni se ci riferiamo a circa 10 anni fa, era arrivato il momento di fare delle riviste tematiche che parlassero della storia del heavy metal, o più in generale della storia delle rock, ed è un peccato che queste riviste non riescano a reggersi a sufficienza da poter essere vendute in eticola, questo a prescindere da ogni altro ragionamento, ma si ritorna al discorso di prima, io sono piuttosto severo di solito, anche se poi sono anche nello stesso tempo per il vive e lascia vivere, ci si lamenta sempre che non ci sono soldi, non ci stanno i sordi, è colpa dei berlusconi, però poi io li vedo i rockers, i metallari, i concerti che bevono, bevono litri di birra, perché è una cosa che fa molto metal, poi se gli dici di spendere 5, 6, 8, 10 euro per una rivista che esce magari ogni due mesi, e no, ma che mago brava, sta tutto su internet, scusate, mi viene spontaneo fare questa seudimitazione umana, perché la realtà è quella che vivo quotidiana. Il mio punto di vista è questo, al di là che siamo in un flusso nel tempo in cui noi siamo un punto e fra 5 anni magari stiamo parlando di tutto e di niente, perché è andata esattamente così, però a me fa un po' specie, pur non avendocela con nessuno, che la rivista che dovrebbe essere mangiata da internet, cioè Rockard, perché se ragiona sull'adesso, su quello che esce, internet arriva molto prima, è l'unica che è resistita, mentre la rivista tematiche, dove magari puoi dare un angolo, puoi fare un articolo di 15 pagine sui Riot o sui Witchfinder General, e con uno che ne scrive secondo un taglio, quella è tramontata. In un momento in cui la settorializzazione estrema è l'unica modo di sopravvivere, mi fa strano che poi alla fine sia rimasta la grande corazzata generalista, con tutto il bene che posso volere da quelli che ci scrivono, perché ci sono anche dei nomi che sanno scrivere, però è buffa sta cosa qua. Forse siamo, mi permetto di fare anche una piccola considerazione, da ragazzo di una generazione dopo la vostra, una o due, dipende dai punti di vista, e forse siamo in quel momento in cui, ok, resiste Rockard anche perché comunque aveva delle dimensioni, aveva un portato che altre riviste magari non avevano, però siamo in quella fase in cui effettivamente l'approfondimento sta diventando importante. Cioè io non penso che tra dieci anni ci sarà lo spazio per riviste che approfondiranno il rock, il metal, settoriali, specifiche, e magari, non glielo sto tirando, ma magari tra dieci anni una rivista come Rockard si capirà definitivamente che non ha tutto questo senso magari di esistere con internet che sull'attualità è sempre più puntuale, ovviamente. Come hai pensato, Giovanni? Teniamo presente anche che la permanenza o meno di una rivista in edicola ha anche un case, non dico di casuale, ma anche molto legato alla voglia che hanno quelle due o tre persone che la portano avanti economicamente. Cioè l'editore e il caporedattore, e ci mettiamo anche dentro il grafico, perché adesso io non conosco la situazione di Rockard, mi interessa relativamente, non sono in grado di giudicare, ma evidentemente lì, a prescindere da quelli che possono essere i guadagni e i vantaggi, nel rapporto dare e avere a loro conviene ancora andare in edicola. Magari ce ne sono altre che, magari ipoteticamente anche a fronte di numeri più alti, ma ripeto, siamo nell'ambito delle ipotesi, perché io i numeri non li conosco e neanche mi interessano, magari decidono di non uscire più in edicola, oppure ti dicono che è una forma moderna di porsi verso il pubblico, che non è quella più di uscire in edicola, ma di essere magari direttamente spedita al fruitore finale, eliminando quindi quella che può essere la spesa della distribuzione, eliminando magari anche il piacere antico da vecchi, che può esserci per chi era abituato ad andare in edicola a comprare una rivista. Bene, parliamo di qualcosa di più frivolo adesso, di tutte le retrospettive che hai fatto, a cosa sei veramente legato? Cioè cosa dici? Ok, cazzo, ho scritto l'articolo definitivo su, ho scritto l'articolo bello su. Molto umilmente, molto umilmente. No, ho fatto con totale umiltà. Innanzitutto scrivere è una questione di autoreferenzialità, è la moneta sonante con cui tutti noi siamo pagati, visto che è un mondo, è bene che si sappia, ma già lo sanno tutti, è un mondo di dilettanti, non nel senso di gente che non sa fare le cose, ma di gente che lo fa gratuitamente, pranne qualche rara eccezione che va identificata sempre nell'editore, ovviamente, e nei capoledattori. Quindi io sono stato gratificato in tutto quello che ho scritto, anche perché ho sempre cercato di fare il battitore libero, mi sono sempre andato a cercare le mie comfort zones, a me di scrivere degli Iron Maiden, delle Zeppelin, degli Purple, degli Esilisi, tutti i gruppi che adoro, sia chiaro, gruppi con i quali sono nato e cresciuto, non mi interessano, non ho nulla di competitivo da dire su di loro e soprattutto non hanno loro ovviamente bisogno di me o di altri che tessano le loro logiche. Mi è piaciuto scrivere di gruppi meno conosciuti, sottovalutati, quanto odio questo termine, però in realtà è così. Penso di... sono molto orgoglioso dell'articolo che scrissi sui Riot ormai più di dieci anni fa, intervistai diversi membri originali del gruppo, cioè quando dico originale mi riferisco ai primi cinque dischi, e fece un articolo molto molto lungo su di loro, ma sono contento di aver scritto di gruppi come April Wine, Budgie, Bachman Turner, Overdrive, tutta roba da vecchi. Penso che molti metallari potrebbero essere messi in difficoltà da questi nomi, Fogat, Triumph, che non hanno avuto tutti questi cantori. Anche nell'heavy metal naturalmente, ho scritto parecchie cose legate allo US Metal Underground, alla New Euro British Heavy Metal, ai gruppi giapponesi, ai gruppi svedesi, gente che io ritengo di valore, nel momento in cui ovviamente c'è la vera passione di andarsela a scoprire, di non fermarsi ai soliti 10, 20, 30 nomi, e che dei quali si era scritto poco, un po' per scarso interesse, un po' forse per scarsa conoscenza della materia nel corso degli anni. Dovessi fare un nome, il pezzo sui Riot è quella a cui sono più appezionato. Di tutti questi gruppi, di cui sia minore non ha senso, perché io non sono un gruppo minore, ma di tutti questi gruppi che magari sono meno conosciuti al grande pubblico, al di là che tu ci abbia scritto no, chi secondo te ha veramente raccolto niente rispetto a quello che avrebbe dovuto raccogliere? Questo si collega a una roba di cui abbiamo discusso più volte noi. La sindrome del non ce l'hanno fatta e di solito finiamo sempre a dire che 9 su 10 è alla fine giusto che siano rimasti dove sono rimasti perché il suo buon motivo c'è la sfiga epocale del oddio ce n'è uno su 10. Quello sì, effettivamente se le cose fossero andate alla sliding doors in modo diverso avrebbero potuto invece no. Dele bene del passato chi secondo te? È difficile, è difficile giudicare soprattutto dalle nomi. Ad esempio io sono solo un convinto che i Sabatage con Chris Oliva vivo avrebbero preso un treno prima, anche se avevano già comunque fatti i loro sbagli con Fight for the Rock e robe del genere. Io quello personalmente ho come... Tu nel cuore un paio di nomi di... No, ma conti i gruppi che ho nel cuore io e quelli sono i gusti personali. Un conto è un fattore oggettivo che ti consenta di dire quelli meritavano e non ce l'hanno fatta perché gli ha detto male. Innanzitutto è difficile, dobbiamo essere tutti un po' più umili. Noi siamo in Italia, l'Italia non conta niente. Dall'Italia, almeno in ambito rock, metal, anche se ce la raccontiamo, i nostri gruppi non hanno nulla da invidiare. Sì, i gruppi forse, ma è tutto il movimento che non conta nulla e... La struttura. La struttura e poter capire per quale motivo un gruppo della Florida o del Texas o di Londra non ce l'ha fatta stando qui e operazione complicata se non addirittura presuntuosa. Ci sono poi dei gruppi... Tu prima, per esempio, hai detto che i Riot non sono un gruppo minore, ma i Riot oggi sono amatissimi, rispettatissimi e qui sembrerebbe nel discorso del respect. Il respect, spesso fatto con le cornine, è quel concetto per il quale ci sono quei gruppi di cui bisogna parlare bene per forza, però fondamentalmente neanche sappiamo bene chi siano e che cosa facciano. Però molti hanno capito... Che non abbiamo i dischi, soprattutto. E soprattutto non ci sono i dischi nelle case. Cioè, diciamoci la verità, i Riot, che io adoro, sono forse il mio gruppo heavy metal americano preferito, questo per scomprare ogni dubbio, ma si morivano di fame quando erano in vita, diciamo, almeno negli anni classici, da metà anni 70 a tutti gli anni 80. Non hanno venduto una copia fondamentalmente. Ancora nell'83, dopo cinque dischi, erano costretti a fare non il gruppo di apertura, ma... Cioè, c'era il Bill, c'erano i Kiss, i Vandenberg aprivano per i Kiss e i Riot aprivano per i Vandenberg. Che ecco, cioè, stavano messi così, con tutto il rispetto per i Vandenberg, ovviamente, che erano un ottimo dubbio. E vabbè, i Kiss se ne è anche a parlare. Quindi, sai, rispettati, rispettati, ma Mark Reale sarebbe... non sarebbe morto povero se avessero venduto i dischi nei momenti giusti. In Sabadell c'è qualche dischi in più, l'hanno venduto, perché poi sono usciti leggermente dopo, e quindi sono esplosi negli anni da... dopo la seconda metà degli anni... nella seconda metà degli anni 80, quando i dischi dei Pimetall hanno cominciato a vendersene tanti. Però, certo, avrebbero meritato qualcosa di più anche loro. A titolo personale, un gruppo che adoro e che meravigliose sia arrivato in Champions League, sono gli Y&T. Ecco, per me Dave Menichetti è un fenomeno, un grande cantante, un grande chitarrista, canzoni meravigliose. Poi, come spesso accade, hanno cominciato a fare un attimino, a truccarsi un po', a fare i belli, a cacciare il batterista perché non è bello abbastanza, ci facciamo scrivere i pezzi dai musicisti esterni, strizziamo l'occhio alle lucrose charts di oltrooceano e puntualmente poi non guadagni nuovi fan e perdi quelli vecchi e resti in serie B. E loro sono rimasti in serie B. Forse più nell'hard rock degli anni 70 ci sono stati dei gruppi che meritavano di più. Ecco, scusate, sono dilungato. No, no, no. Io volevo solo... Ecco, quei Riot, tu mi dici, almeno, tu che li conosci anche molto bene, è anche un discorso probabilmente di tempismo. Cioè, diciamo, magari l'era classica, quella dei dischi migliori, quella che era in anni in cui comunque l'heavy metal o l'hard rock non vendeva poi così tanto e non era diventato quello che poi è diventato nella seconda metà degli anni 80 per tante band americane, ad esempio, parliamo del mercato americano. Assolutamente. Mentre in C.Y.&T ci hanno provato ma alla fine non ci sono riusciti. Inizio di The Flappard che da giovane medio fa loro ce l'hanno fatta a fare quel percorso lì. Infatti The Flappard è gente che sicuramente saranno 38 anni che vivono abbondantemente la loro musica e si sono potuti comprare piscine, Ferrari e billoni, insomma. Se quello poi è l'obiettivo della vita, se quello è la cartina di tornasole, se ce l'hai fatta o non ce l'hai fatta, loro ce l'hanno fatta sicuramente, assolutamente. E meritatamente, aggiungo, sia chiaro, perché insomma i The Flappard sono indiscutibili. Non fanno un disco buono da almeno 30 anni. Non sei della scuola di Perseo che si sono venduti? No, venduti, non sappiamo, loro parlerebbero di evoluzione. Io adoravo i primi due dischi ma adoro anche Paromenia, assolutamente. Istiria ha delle meravigliose canzoni. Io sarò l'unico in Italia a cui non piace la produzione di Istiria, non mi piacciono quei suoni, li trovavo freddi all'epoca e adesso secondo me sono invecchiati male. Però le canzoni c'erano. Loro hanno sempre avuto questa componente giovanalistico-melodica mescolata a brani più aggressivi sui primi due dischi, però insomma c'erano le ballate anche sul secondo disco. Poi dal terzo hanno cominciato a, e si ritorna a strizzare l'occhio al mercato, ma non basta strizzare l'occhio al mercato per fare i soldi per diventare importanti, sennò lo farebbero tutti, anche quelli che dicono di essere duri e puri. Bisogna essere anche bravi a scrivere le canzoni di Un Cento Dio. I The Flapper l'hanno sfondato meritatamente, assolutamente. Adesso mi è venuto in mente, a Roma si dice come i cornuti, ti vengono le cose in mente dopo. Una band secondo me di caratura superiore, di livello talmente grande che secondo me non è stato compreso fino in fondo, è l'idea monetto. Per me erano un gruppo eccezionale che troppo, cioè per il metallaro inglese dei primi anni Ottanta, che usciva dalla fabbrica, tra una birra, un rutto e una scureggia. Sentire Sean Harris che riusciva a imitare bene Robert Plante, quell'altro che scriveva brani anche progressivi, anche evoluti, eccetera, non erano, non erano, non li capivano. In Italia non se ne è neanche mai parlato, anche perché in Italia c'è stata una stampa metal soltanto a partire dall'85-86 in poi, a quel punto loro si erano sciolti. Ma i Demonhead è un gruppo che avrebbe meritato molto. E la cosa più triste non è che siamo finiti nell'oblio, quello sarebbe stato meno triste. La cosa più triste è che vengono nominati soltanto come quelli di M.I.E.V.L., quelli che, lo sapete che i metalli, io non le posso soffrire, questo luogo comunismo del mondo del metal, le zucche di Hamburgo, i bardi di Krefeld, e zio Lemmi di qua, e zio Ozzi di là, non è vostro zio. Se vi vede vi spara, o se siete donne cerca di sodomizzarvi, non è vostro zio, per carità. Ma siamo tutti una grande famiglia del mese. Una domanda così brutale. Dimmi. E Death and Progress, Canterbury, voto secco. No, bellissimi tutti e due. Beh, Canterbury gli do 9, Death and Progress 8, fu un ottimo ritorno ma è nel periodo completamente sbagliato, il tram era già passato e loro non c'erano saliti. Death and Progress è un disco per pochi, penso che abbia proprio girato poco, ecco. Sì, 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 sì. Anche proprio dal punto di vista quantitativo ci gira gran poco. E non ho neanche controllato se l'hanno ristampato di recente. Io lo comprai all'epoca. Poi, è anche colpa del pubblico. Adesso è già la seconda volta che dici l'inglese medio non capiva. Secondo te sto pubblico metal è pronto, non è pronto, era molto più pronto, molto meno pronto adesso, viceversa? Beh, non lo so, questo sinceramente lo ignoro. Diciamo che una cosa che bisogna dire è che manca, secondo me, molta curiosità. Adesso c'è talmente la rete dalla possibilità di ascoltare qualunque cosa che paradossalmente viene meno la curiosità di scoprire cose nuove. ci si trincerà nelle proprie certezze, ci si trincerà nelle proprie comfort zones e magari ci si fa belli andando a scoprire quel gruppo svedese che nell'83 ha fatto un demo e poi non si conosce un disco qualunque di Judas Priest o dei Black Sabbath, magari un disco minore. Non... ci sono dei gruppi che stanno lì pronti per essere scoperti. Basterebbe non necessariamente andarsi a comprare i dischi, quella è una scelta personale, ma basterebbe veramente andare a smanettare su internet e molti e molti non lo fanno, trincerandosi magari in un... eh, ma se non ce l'hanno fatta evidentemente un motivo c'era, oppure in un... oppure nel respect di cui dicevamo prima, quando vedi la faccia un po' stranita di qualcuno che gli nomini, non lo so, il Gentle Giant, lui non capisce, ma capisce che forse è il caso di fare le cordine e dire rispetto, ecco. A me a quello mi diverte molto, ma... Ok, ma... nel rapporto delle responsabilità sul, diciamo, la poca notorietà, l'insuccesso relativo di alcune band. Fammi tu una percentuale del... quelle che meritano, secondo te, chiaramente. Quanto è colpa del pubblico? E con il pubblico intendiamo anche il mezzo con cui fruiscono la musica, che una volta erano comprare i dischi, adesso è internet, eccetera, eccetera. Le riviste, adesso i blog, eccetera. E quanto, secondo te, o comunque hai avuto modo di vedere, è colpa delle band stesse, che non sanno, che ne so, promuoversi, che è una cosa ben diversa oggi rispetto agli anni Ottanta. Cioè, quanta responsabilità c'è alle volte delle band, secondo te, o se è solo un discorso di pubblico? Non credo. No, assolutamente. C'è sempre una buon partecipazione negli eventi. Gli Odin, c'è il famoso caso degli Odin, che era un buon gruppo, che fecero quel film Il declino del mondo occidentale, tra l'altro in italiano, con una regista donna, e loro si fecero intervistare dicendo che per quel film, che lo stesso dove sia il chitarista degli Wasp pubblicato in piscina, eccetera, però gli Wasp... Ah, quello, sì, sì, me lo ricordo. Gli Wasp se lo potevano permettere, perché erano già fermati. Gli Odin, che stanno lì con le mezzi nudi, con le bottiglie di champagne, diventeremmo il gruppo più famoso del mondo. È chiaro che ti fai prendere in giro o odiare, quindi c'è sempre anche una compartecipazione delle band. C'è anche da dire che c'era anche tanta rivalità. Cioè, negli anni Ottanta uscivano tanti di quei dischi meravigliosi, almeno per quanto concerne le metal, che giocoforsa alcune cose e bisognava lasciarle indietro. Non è che si potesse recuperare tutto. Quindi, per carità, c'è una casualità, c'è una... Sicuramente il pubblico ha molte colpe perché è un pubblico... Cioè, perché adesso il pubblico si lamenta che i concerti costano 100 euro, 80 euro, 150 euro? Perché è l'unico modo che hanno i grandi gruppi per guadagnare, o anche i gruppi minori, per guadagnare un po' di soldi. Perché nel momento in cui i dischi non si vendono, perché tutti se li scaricano. Perché fanno tutti i bravi rocker da tastiera, metallari da tastiera, scaricandosi tutti, andando magari a prendere per il culo quelli che i dischi se li comprano. Questa gente deve campare. Nel momento in cui i Queenstrike, per dire un nome enorme, vendono un quarto dei dischi che vendevano prima, sicuramente perché è calata l'ispirazione, questo è chiaro, ma anche e soprattutto per colpa del download, eccetera, e poi i Queenstrike che vengono a suonare i prezzi dei concerti aumentano. E aumentano esponenzialmente più e più importante il gruppo, più aumentano i prezzi. Perché poi si entra anche nel loop del fatto che la gente vuole esserci, vuole... non vuole esserci, vuole poter dire di esserci, di esserci stato. E quindi Metallica sono un gruppo che ormai non ti può avvicinare a un concerto perché ci vanno 30.000 persone, vedi un puntino e allora non ci vai, tu che vorresti vederli, vedi un puntino e magari paghi 150 euro per vedere un puntino o per vedere un DVD. Però anche lì, se la gente si comprasse i dischi, come succedeva all'epoca, se il pubblico si comprasse i dischi, invece di puntificare su internet, forse i prezzi dei concerti sarebbero più bassi. E sono le storture di questo mondo moderno, che è bellissimo, che offre tante possibilità, ma se poi di queste possibilità ne abusi, chiaramente va a finire male. Cioè, non volete comprare le riviste? Non le comprate, chi se ne frega. Poi però non ci sarà più nessuno che racconta certe cose, la scena morirà, pian piano, e poi è chiaro che poi dei gruppi non parlano di nessuno. Ok. Quanto ti senti intermediario e in grado di orientare un ipotetico lettore quando racconti la storia di una band? Zero. Zero perché non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Cioè, bisogna fare le cose seriamente. E d'altronde se non lo facessi io e le persone nelle mie condizioni seriamente non ci farebbero scrivere, perché c'è un capo redattore, ci sono degli editori. Però non bisogna prendersi sul serio. Qui Guru non ce ne stanno. Io l'ho detto all'inizio, sono semplicemente un appassionato. Sono da più di 40 anni che ascolto musica e compro dischi. mi piace parlarmi, mi fa piacere, mi gratifica, come dicevo prima, mi abbevero di questa gratificazione, ma non ho la pretesa di insegnare nulla a nessuno. Se qualcuno, magari è capitato, in qualche molto rara circostanza, qualcuno in giro per l'Italia, Cazzo! L'Oriottus è quello che mi ha fatto scoprire i granicus! Fa piacere, assolutamente, fa piacere, ma non bisogna pensare di essere più importanti di quello che in realtà non siamo. Anche perché poi, insomma, c'è anche di quella gente che scrive non tanto sulle riviste, ma soprattutto sul web che ti fa passare la voglia di leggere. Sono d'accordo. Ma, interrompo un attimo, ma tu però, da grande lettore sicuramente, cioè, se tu dici che il potere di, tra virgolette, muovere delle vendite o l'opinione di chi ti legge non è così forte, però sicuramente tu, da giovane o meno giovane, avrai letto cose che ti hanno spinto a materialmente comprare dei dischi o sbaglio? Guarda, sì e no. Avevo delle penne di riferimento, assolutamente, su tutto il Giancarlo Trombetti e Beppe Riva, prima su Rockerilla, all'alba degli anni Ottanta e poi sono state le penne di punta del primo Metal Shock. Però io sono un animale strano, sono un animale, e sono un animale strano perché io, compatibilmente con i soldi che avevo in tasca, compravo tutto. Cioè, io ero appassionato di hard rock e di heavy metal, battezzavo anche semplicemente sulla base di una copertina o del sentito dire che un gruppo, un disco, facesse parte di quella parrocchietta e cercavo di comprarmi tutto. Ho sempre ragionato in questo modo, naturalmente prendendo anche qualche fregatura, prendendo qualche disco che chiaramente non mi piaceva, ma non mi importava. Dicevo, vabbè, è un disco brutto, però è un disco di hard rock. È un disco brutto, però è un disco di heavy metal. Mi fa piacere tenerlo, mi fa piacere collezionarlo, non mi pento di avere speso i soldi. Quindi non ho mai dato molta importanza alle recensioni. Ci ho detto, c'erano alcune penne, Beppe Riva è uno che ti faceva viaggiare. Ma perché Beppe Riva non era uno scrittore di heavy metal o di rock. Beppe Riva era uno scrittore, punto. Era uno che sapeva tenere la mano, era uno che aveva letto tante cose, quindi aveva questo modo immaginifico di raccontarti i mondi meravigliosi nei quali tu venivi catapultato. Non si limitava a scrivere le solite cazzate che legge adesso, la batteria terremotante, la chitarra fiammeggiante, questo combo non fa prigionieri sugli scudi fatti da sterili pseudoimitatori. Beppe Riva è uno che ti faceva veramente viaggiare. Anche Trombetti era meno, come posso dire, meno aulico nello scrivere, però raccontava di sé e delle sue esperienze di vita vissuta nel mondo delle rock, ed era emozionante leggerlo. Però poi comprare i dischi era un'altra faccenda. li compravo perché basta, c'è scritto sopra Black Sabbath lo voglio, non me ne frega nulla se dicono che, non lo so, che Never Say Die è brutto. Io lo voglio lo stesso, a parte che non è brutto per niente, ma anche se fosse stato brutto me lo sarei tenuto con estrema gioia. Avevo proprio questa mentalità del tenermi tutto quello che afferiva certi generi che amavo. Guardi anche qualcosa di più moderno, mi risulta dal tuo Facebook, che ultimamente hai fatto tre o quattro concerti, e sono rimasto piacevolmente sorpreso a vedere che sei andato a vedere anche di Messa, che è un gruppo da giovani con 3G. È un gruppo da giovani, ma non sono assolutamente moderni, ed è il motivo per cui mi piacciono i dischi. Esatto. È il motivo per cui mi piacciono i dischi. Vai, raccontaci com'è andata. Beh, è andata, innanzitutto è stato un esperimento sociale molto interessante, perché io mi immaginavo di vedere a Roma le stesse facce che vedo ai concerti metal. Io ero stato nei giorni precedenti, ho visto i Greg Digger, i Tankard, Michael Schenker, i Saboti, insomma diversi concerti di metal. Mi aspettavo di vedere le stessi volti, e non c'era nessuno, c'era un mondo completamente differente. e ho avuto la conferma di quello che già sapevo, che questo è un mondo fatto di una serie di basi comunicanti, anzi di basi non comunicanti, dove manca completamente il processo osmotico, perché evidentemente chi va a vedere i Greg Digger, i Tankard o Michael Schenker, quindi cose anche molto diverse fra loro, non va a vedere in essa. Va bene, buon per loro, no, peggio per loro, secondo me, ma ognuno fa come crede, è un gruppo per me eccellente, perché prende molto dagli anni 70, di metal hanno poco, hanno qualcosa del Doom, ma del Doom Rock. Anche qui poi ci sarebbe da aprire un discorso, ma non vorrei essere troppo prolisso. Il Doom presuppone due, tre pochi ingredienti, ma devono essere quelli, deve incutere una certa tensione, una certa atmosfera di angoscia, non deve essere necessariamente lento, men che meno deve essere cantato in graule. Ecco, i Messa hanno degli elementi Doom, ma hanno anche degli elementi folk, degli elementi hard rock tradizionali, molto, molto 70s. Ci ho trovato qualcosa anche di Oakwind, di Psichetelia, secondo me è un ottimo gruppo che ha grandi potenzialità, inseriti in un bill con gruppi completamente diversi da loro, meglio per loro, hanno fatto una figura migliore. Ok. Sono curioso, Gravedigger come stanno? Gravedigger, diciamoci la verità, sono sempre stati un gruppo di serie C, soltanto che in un mondo in cui l'anzianità fa grado, come succedeva ai tempi del militare per chi lo ha fatto, adesso loro è gente che stanno in giro da 40 anni e sono intoccabili. Per carità, sono in discreta forma, nel senso che Chris Bolten dà quella voce brutta, che è la stessa però identica che aveva negli anni 80. esattamente, quindi va bene così. Non si risparmia, è un concerto divertente di un gruppo... Beh, serie C forse sono stato cattivo. Diciamo una serie B che può puntare nella altezza. Allora diciamo, secondo me ti do la mia. Io li ho sempre seguiti. Sono sempre stato in gruppo di serie B che per un attimo sembrava che potessero entrare in serie A ai tempi Tunes of War, ma la bolla si è sciolta abbastanza in fretta e sono rimasti lì. Hanno avuto un paio di dischi in cui sembrava che si potesse fare un salto. Però ci sono dei limiti oggettivi. A proposito, tu che sei collezionista, quindi hai anche Stronger Than Heaven dei Bigger. Sì, sì, è quello con il papero in copertina. Sì, sì, assolutamente. Ce l'ho. Sì, nel loro tentativo di strizzare l'occhio a mercati più... È stato come matti. Infatti, io non le capisco queste cose. È un errore che hanno fatto tutti. Poi in quel periodo 85, 86, 87, i gruppi inglesi per esempio tutti lo hanno fatto. Non conquisti mai pubblico nuovo e perdi quello vecchio. Infatti, mi pare che poi si sciolsero i Grave Digger dopo quel disco, che non è brutto. Sì. Non è neanche brutto di per sé. Semplicemente non c'entrava nulla con i Grave Digger e chiaramente il vecchio pubblico... Cioè, immagino gli avranno tirato pomodori e crauti quando sono... Sì, e dopo lui non ha la voce da poter sostenere neanche lontanamente una svolta di quel tipo lì. Ma tra l'altro poi se avessero avuto mezza possibilità con quella copertina c'è un papero in copertina se non ricordo male. è una cosa... Non va bene. Perché quello che dicevi prima sui Grave Digger è giusto, cioè nel senso... Confermo, negli anni 90, che sembrava esserci la crisi dell'epimetal tradizionale, quantomeno crisi a livello di vendite, i gruppi tedeschi in generale sono quelli che hanno tenuto un po' alta la bandiera. Loro, i Rage, Running Wild, tanto da essere lievemente sopravvalutati in quel periodo. Però Rage avevano qualcosa in più, quel sinfonismo non da catto che li rendeva più interessanti. I Running Wild forse mi piacevano di più le canzoni, però ecco, affidarsi ai gruppi tedeschi per tenere alto il vessillo except a parte vuol dire che l'heavy metal non se la passava poi tanto bene. E quando l'heavy metal è tornato, all'epoca di Hammerfall, Domine e del rilancio, come l'hai vissuta? Per me non è cambiato assolutamente nulla perché io continuavo comunque ad ascoltare. Qui stiamo parlando soprattutto di heavy metal, io ascolto e colleziono tante altre cose e scrivo di tante altre cose, ma per me il heavy metal classico rimaneva quello di riferimento. Hammerfall, direi anche Nocturnal Ritis, che nonostante sul primo disco avessero quel logo che facesse pensare incomprensibile. Un gruppo più estremo. Esattamente, di black metal, di death metal erano eccezionali. In A Time of Blood and Fire. Ci tengo a dire una cosa, io all'inizio, ma all'inizio è una cosa che molti si sorprenderanno con quei quattro gatti che mi conoscono, all'inizio non mi sono dispiaciuti né i Rhapsody né i Nightwish. C'era veramente qualcosa di nuovo. C'era veramente un po' di aria fresca. I primi due dischi di Rhapsody e i primi due di Nightwish sono dei bei dischi che all'epoca erano qualcosa di nuovo, di interessante. Era un sasso nello stagno. Poi hanno dato vita a una serie di imitatori, un po' come quello che è successo a decina di anni prima, no? Sì, circa dieci anni prima con i Dream Theater. Sono le copie che valorizzano l'originale, gli imitatori che valorizzano i pionieri. Sempre parlando di Revival, io, allora, ci conosciamo, insomma, io ascolto la Dream Theater, ma ascolto anche tant'altro. Quindi bene o male devo comunque fare una scelta anche per motivi di sanità mentale. Io, in questo momento, ad un Kipitru non ci andrei, perché a parte i primi due o tre nomi, sotto ormai mi vedrei gruppi, e li ho anche visti magari in separate sedi, mai tutti lì insieme, in cui, bello. Però, cioè, faccio un esempio a caso, al di là della... I pictures sono stati riportati, o gli Stormy sono stati riportati in auge dalle cover fatte agli Hammerful. Certo. Poi magari hanno azzeccato il disco, hanno azzeccato il concerto, però adesso sono passati quasi vent'anni da Legacy of Kings e dai primi Hammerful. Sti vecchi di seconda categoria, ma senza giudizio, tanto per scherzare. Cioè, gli Iron Man è inutile, non gli puoi di niente, gli puoi di piacere o no, però, tengono in piedi una baracca che ha il suo perché. Più si scende, non hai mai l'effetto di dire, o la sensazione di dire, oddio, mi accontento dei dischi e va ben così. Perché io ormai ho visto parecchi gruppi super minori e sono più le volte che dico, se vabbè, più che oddio. Tu? Ma c'è l'aspetto emotivo, l'aspetto affettivo e i pictures, capirai, mi nomini un gruppo veramente di serie C, come fama, come importanza, però pensa che i pictures sono stati uno dei primissimi gruppi a venire in tour in Italia. nel 1980 fecero cinque sedate, suonarono a Roma al Piper, scusa, non al Piper, al Much More, che era una discoteca che stava a 150 metri da casa mia. Quindi gente a cui sono molto affezionato, io gli voglio bene veramente, ecco, come può voler bene magari all'amico non tanto intelligente, all'amico che ci si impegna ma non ce la fa, ma anzi, gli vuoi ancora più bene, no? E' come se tu sei un appassionato di calcio, non un tifoso, ma un appassionato, e magari c'è più curiosità di sapere cosa ha fatto la San Benedettese o la Ternana o la Reggiana che non la Juventus, l'Inter o il Milan, che alla fine sono sotto gli occhi di tutti. No, io me li vedo sempre volentieri, poi mi rendo conto che per un 50% è l'aspetto emotivo quello che fa la differenza, insomma. Ne ho vissi tanti anch'io, anche perché poi di concerti se ne sono cominciato a vedere tanti negli ultimi 20-25 anni. Cioè, fine ai primi anni 90 di concerti, forse a Milano si vedeva qualcosa, ma in altre città ben poco. Sì. E il fatto che tu sei... Vai, vai Stefano. Invece a proposito di... Ci sono anche i gruppini, cioè a proposito di Revival, parlavamo appunto, e l'heavy metal, l'hard rock, eccetera, ci sono comunque dei gruppi che in qualche maniera stanno venendo fuori abbastanza giovani, che un po' di successo ce l'hanno. Adesso non cito i nomi grossi, Greta Van Vliet, o nel heavy metal, che ne so, dalla Scandinava, gli Enforcer, tutta una nuova scena di gruppi che suonano quasi esattamente come i punti di riferimento che potevano essere le Zeppeli o gli Iron Maiden, eccetera, eccetera. Di quel tipo di nuove leve che opinione hai? Ma c'è spazio per tutti, assolutamente. A me il fatto che non abbiano originalità, perché non ce l'hanno, diciamo le cose come stanno, l'originalità zero non crea problemi. L'originalità è sopravvalutata. Come diceva una persona che ne sapeva più di me, nella musica contano tre cose. le canzoni, le canzoni e le canzoni. Tutti il resto sono discorsi sui quali noi ci possiamo anche un po' intortare, sì, la tecnica, la produzione, l'originalità. Ma chi se ne frega? Mi ha nominato gli Enforcer. Gli originalità non hanno nulla. C'è un po' di Judas Priest, un po' di Arometan, un po' di Running Wild. Però, devo dire, quei dischi sono divertenti, sono belli. Senti i run, i svedesi, sono i Judas Priest, e quindi io mi esalto. Allora, sento la vocina. Allora, senti i Judas Priest, cazzo? Ma io mi senti i Judas Priest e mi sento anche i rami. La vocina è sempre veneta in modo inquietante quella tua vocina. Non so per quale motivo. Perché io non c'ho nulla con te. Io adoro i Veneti, però c'è sempre la presa in giro che io faccio da amichevolmente con Gianni della Cioppa, no? Che ha molta pazienza e che io mi permetto proprio perché mi vuole bene e io voglio bene a lui di prendere giocosamente in giro, affettuosamente in giro, immaginando questi presunti scambi che poi spesso non ci stanno. Mi senti Judas Priest e mi senti Ram, mi senti Led Zeppelin e mi senti Greta Van Fleet. E va bene così assolutamente, non ci sono problemi. Anzi, anche perché, ripeto, imitare non è facile quello che dicevo prima. Se tutti fossero buoni a imitare e a scrivere canzoni commerciali, ma avremmo tutti i numeri uno nelle classifiche e tutti i miliardari. E così non è, insomma. Ok, ultima. Abbiamo parlato dei gruppi italiani prima. Eh, ma i gruppi italiani... tu c'eri, hai anche fatto parte della scena, cantavi, giusto? No, vabbè, lo scherziamo. Ero un dilettante allo sbaraglio, ma... lasciamo perdere, insomma. Ma comunque hai fatto parte. Scusa, e cantavi meglio di Chris Boltendal, comunque? No, assolutamente no. Ah, ah, ok, ok. Forse avevo una voce più sensuale di lui, un'immagine più sensuale, ma no, Chris Boltendal non si va. No, per esempio, non scherziamo. Sono stato un dilettante allo sbaraglio e mi sono divertito io, ma non quei quattro gatti che sono venuti a vedermi per affetto, ecco. C'ero come appassionato, come ascoltatore, sì, quello sì. E cosa volevate sapere? Che idea hai dei gruppi storici italiani? Ad esempio, io ho una roba che faccio fatica un po'. Allora, io ho cominciato inizio anni 90, però sono andato tanto indietro, ho comprato, ho ascoltato. E boh, c'è un certo revisionismo ultimamente che qualche volta mi fa un po' arrabbiare, mi infastidisce, nel senso che sembra che tutti non ce l'avessero fatta senza un motivo. E invece, riascoltando tantissimi dischi vecchi, io i difetti li sento tutti, cioè, produzioni assolutamente deficitarie, voci che non ci stanno, riff copiati di paro paro da seconde linee della New Wave of British Heavy Metal. Adesso sarò che sono nel periodo negativo, però sono veramente pochi quelli che meritavano di più. Ma senza offesa, poveretti, non c'è una struttura attorno, però... No, non è fatta, al massimo verranno a cercare te. No, io in parte sono d'accordo se mi parli di produzioni che erano scandalose, perché venivano registrati questi dischi in povertà, in studi di registrazione, dove i fonici non sapevano veramente dove mettere le mani. E sono effettivamente dei dischi molto poveri, pieni di difetti. Però le canzoni c'erano, e per me, come ho detto prima, è quello che conta di più. La scena italiana comunque aveva tanti gruppi di qualità, e su questo io ne sono assolutamente convinto, e non lo dico per fare il Diamo Cristiano, c'è Sabote, c'è Strano Officina. I Dark Quarter erano un gruppo eccezionale, ecco, veramente i Dark Quarter sono un po' i daimonetti italiani, il gruppo che non si era affatto tra quelli che avrebbero potuto meritare di più. I Gunfire, Revenge, qui a Roma c'era Nirav, Crying Steel, che erano un'eccellente fotocopia cristiana, c'erano veramente tantissimi gruppi di a real terror abruzzesi, almeno una ventina di gruppi notevoli. Però, bisogna essere onesti intellettualmente, e dire che all'epoca l'edimetale italiano se lo filavano in pochi. In pochi già se lo filavano in Italia, questa è la cosa più grave. E appena qualcuno sembrava quasi vagamente che ce la potesse fare, scattava l'invidia o la stupidità, che poi spesso sono la stessa cosa, di pensare, ti siete venduti. Ricordo perfettamente gli Scanners, che fecero subito il primo disco su Cicchi, che era una Major, e anche il secondo, mi pare. Eh no, ma da dove vengono questi? Ma com'è possibile? Ma perché gli Scanners? Eh ma non c'era una solidarietà nei loro confronti. Gli Scanners sono un grande gruppo, dal vivo ancora oggi sono mostruosi, con pisoni, è una cosa, è un animale da palco incredibile. Mi ricordo di Royal Air Force, di Milano, che siccome, per arrotondare, per mettersi in tasca due spiccioli, due di loro, mi pare, Batta John e Riso, se non ricordo male. Fiderista e batterista, posso sbagliarvi, comunque un paio di loro andarono, fecero una comparsata con Giovanotti, capirai, quando poi si presentarono a qualche colso metal, furono bersagliati. Quindi c'è proprio questo atteggiamento in cui, ah, i gruppi italiani non vengono considerati abbastanza, poi appena qualcuno provava a fare qualcosa, provava a farsi notare, era lo stesso pubblico italiano che gli tarpava le ali. Quindi è onesto dire che l'unico gruppo italiano che incideva regolarmente all'epoca e che era un minimo conosciuto all'estero erano i Banatio. Tutti coloro che dicono il contrario mentono o perché sono in malafede, oppure semplicemente perché non c'erano e gli hanno raccontato delle storie sbagliate. Questo bisogna assolutamente dirlo. Detto questo c'era tantissima qualità, gli Electra Drive, un gruppo eccellente, anche dal vivo, tra l'altro, quelli di Sassari, come si chiamano i Road Sacred, veramente c'erano tanti bei dischi che ho ascoltato con piacere e che tengo a casa con piacere. Però in certi paesi che in qualche modo possono essere equiparati al nostro, c'era più solidarietà. In Francia, c'è un sistema di labels, anche se piccole. C'erano tre etichette di alto livello, e adesso ovviamente non mi verranno in mente, la Devil's Records, la AX Killer e la Dream Records. Magari sono nomi che non diranno nulla a molti di voi, molti di noi, ma vi assicuro che sono etichette che hanno pubblicato decine e decine di dischi di gruppi francesi e internazionali. C'era il festival Lab Brugé, dove andavano a suonare gruppi importanti, ricordo una formazione dei Virgin Steel incredibile con Jack Star, e praticamente il gruppo di Jack Star è spacciato come Virgin Steel con Red Forrester, The Riot, la cantante e la sezione ritmica The Rose. In Spagna c'era una difesa verso i gruppi spagnoli incredibile, a partire dal fatto che cantavano quasi tutti in spagnolo, Baron Rojo, New, Obus, Panzer, eccetera, eccetera, eccetera. In Italia siamo sempre... E perché è più giovane quella roba lì si vede anche dal power metal spagnolo, che ha fatto quadrato, ed è arrivato molto più in là della qualità intrinseca della proposta. Assolutamente, Mago de Olse, Terra Santa, anche qui ci sarebbe da fare un'altra puntata su quello che io definisco power metal, che non è quello. Però vabbè, è una mia personale idea di vecchio, il power metal non è quello degli Halloween, non è quello degli Stratovarius, il power metal è quello americano, Metal Charge, Omen, Jack Panzer, ma non voglio tediare nessuno, e poi sono in minoranza ormai. Per cui, insomma, per concludere, gruppi italiani ottimi, ottimi, dischi ottimi, c'era anche qualche ciopega, ovviamente non la nominerò, ci si può andare per esclusione tra quelli che... no, perché mi sono anche dimenticato qualcuno di quelli buoni. E... però facevano schifo le registrazioni. Allora, Strano Officina, io li adoro, come qualunque essere dotato di senno, io adoro la Strano Officina. Adoro Bud, adoro tutto di loro. Però il primo extended play, quello con le quattro canzoni in italiano, con tutto che c'erano i testi delle canzoni ed è cantato in italiano, ma molte parole non si capiscono. Ma non è per colpa di Bud, che è un fenomeno, che è un dominatore sul palco. Io proprio mi esalto solo a pensarci, oltre a essere una persona squisita, di umiltà eccezionale. Ma per colpa dei disperati che gli hanno registrato quel disco, non sapendo cosa fare di un gruppo di hard rock o di metal, questo è il problema grosso. Non c'era la cultura negli studi di registrazione. Bene, io direi che abbiamo fatto una bellissima carrellata di argomenti, mi piacerebbe risentirci più avanti, magari scegliamo una scena, scegliamo un periodo e lì andiamo più di nomi, di schiene, dettagli. Se a te fa piacere Giovanni. A me fa piacere. Ho come sospetto che il metal americano sarà quello prediletto. Non so quanto possa far piacere a chi ascolta, insomma, però io non ho problemi, insomma. Va bene, assenti, noi ti ringraziamo tanto di essere passato di qua. Grazie ancora. Aspetta l'assegno però. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, ascoltatori, ciao a tutti e a tutte. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.